Il nostro mondo è meraviglioso. Purtroppo però, non tutto funziona nel modo giusto. L'ambiente è messo a dura prova dall'inquinamento e le risorse naturali non vengono preservate. I laboratori sono spesso sfruttati e non vengono loro garantiti i diritti fondamentali ed il giusto compenso. Alle donne in molti paesi non sono riconosciuti gli stessi diritti degli uomini. Non ricevono una pari retribuzione, non possono essere indipendenti né partecipare appieno alla vita sociale. Chi è disabile, chi non ha gli stessi usi e costumi, chi è in qualche modo diverso, viene spesso discriminato. Non sarebbe bello poter fermare tutto e cambiare? Il commercio equo e solidale nasce per creare un mondo più giusto. Nel rispetto dell'ecosostenibilità, le produzioni tutelano la biodiversità e gli ecosistemi. Il commercio equo e solidale si impegna per la salvaguardia delle risorse naturali e per lo sviluppo sostenibile. Il commercio equo e solidale è in prima linea nella lotta allo sfruttamento. Quintela ai lavoratori nei loro diritti e garantisce loro il pagamento di un equo compenso. In questo modo si favoriscono il progresso economico e lo sviluppo sociale delle comunità. Garantendo le pari opportunità, il commercio equo e solidale assicura alle donne la possibilità di accedere al lavoro e alla vita sociale in condizioni di parità rispetto agli uomini. Il commercio equo e solidale ha come valori fondamentali il pluralismo e l'inclusione sociale e si pone come obiettivo l'accoglienza e l'inserimento di tutti nella comunità. Possiamo fermare tutto e cambiare. Acquistiamo i prodotti del commercio equo e solidale e insieme contribuiamo a costruire un mondo migliore.